L'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, al fine di contenere i danni alle culture agricole causate dai ungulati e dall'Avi Fauna, in data 28 gennaio 2021, ha pubblicato un bando per la concessione di contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni alle culture agricole causati da fauna selvatica. I contributi, fino ad un massimo di 2.000 euro, saranno concessi per la realizzazione di recinzioni elettrificate. Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.